Un buon pomeriggio e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di Crona che torniamo sull'accoltellamento del 27enne senegalese attivista dell'associazione Ubuntu tra Pettorano Suggizio e Sulmona. Sulla vicenda interviene il segretario nazionale di rifondazione comunista Maurizio Acerbo che parla di un episodio nato dal clima di xenofobia che si vive negli ultimi anni in Italia. Il servizio di Giuseppe Dintino. E' stato accoltellato la gola e poi gettato in un fosso. E' successo a Sulmona. La vittima è Sadio Camera, un 27enne senegalesi ospite del centro di accoglienza di Pettorano Suggizio. Il 27enne stava tornando nel centro di accoglienza per una strada di campagna quando è stato affrontato da due individui. Prima lo hanno malmenato, poi lo hanno accoltellato vicino alla carotide facendo perderli sensi e infine, probabilmente credendolo morto, lo hanno gettato in un fosso. Ma il senegalese, che tra l'altro è un attivista dell'associazione Ubuntu a tutela dei diritti dei migranti, non era morto. Alcune ore dopo ha aperto gli occhi, ha risalito la scarpata e sanguinante è tornato al centro di accoglienza dove ha chiesto aiuto. Credo che il presidente della regione dovrebbe andare all'ospedale a portargli la solidarietà della comunità abruzzese, a dirgli che gli abruzzesi non sono come questi barbari che vanno isolati e tutti dovrebbero condannare, soprattutto quei partiti che sono responsabili di questo clima che si è creato in Italia. A Sadio va tutta la mia solidarietà, la solidarietà di rifondazione comunista. È stato portato prima all'ospedale di Sulmona, poi a quello di Avezzano e dopo a Pescara dove è stato operato d'urgenza. Ti insegniamo noi a campare, gli avrebbero detto gli aggressori prima di accoltellarlo. Un caso analogo era già avvenuto un anno fa al centro immigrati di Sulmona, quando un 23enne del Gambia fu aggredito per motivi razziali. Pochi giorni fa, per quell'episodio, un 47enne originario di Arezzo è stato condannato a sei anni di reclusione. Nella Repubblica Italiana qualcuno viene eletto a ricoprire una carica di rappresentanza di tutti, deve rappresentare tutti. E poi io credo che sia fondamentale chiedere che le istituzioni assumano una posizione netta, perché il Presidente della Regione in questo momento rappresenta tutti gli abruzzesi, non solo quelli che si esaltano vedendo la scritta Dux a Villa Santa Maria. Cambiamo argomento adesso, lo stop alla neurochirurgia dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, grava sulla Sanità Teramana, chiamata a sopperire con l'ospedale del capoluogo. Oltre le polemiche politiche resta il nodo del trasferimento dal Molise all'Abruzzo, soprattutto per le patologie tempo dipendenti. Vediamo il servizio. Ancora polemiche per la sospensione dell'attività di neurochirurgia in emergenza all'ospedale Cardarelli di Campobasso, con conseguente trasferimento delle persone colpite da patologie tempo dipendenti ai nosocomi di altre regioni limitrofe. Secondo i diversi comitati, i lunghi tempi di percorrenza, mediamente di due o tre ore, non sempre garantiscono la sopravvivenza e pertanto chiedono almeno un servizio di trasporto urgente con Eliso Corso. Sul tema abbiamo intervistato il direttore generale dell'Asra di Teramo, il molisano Roberto Fagnano, che ha dato la sua disponibilità ad accogliere pazienti molisani in emergenza, ma ha sottolineato il rischio legato ai tempi di percorrenza. Sì, abbiamo appreso che la chiusura della parte restante della neurochirurgia dell'ospedale Cardarelli di Campobasso necessitava di un supporto da parte di altri ospedali e in particolare dalla unità operativa complessa di neurochirurgia di Teramo. Da un lato questa cosa ci fa piacere perché onora il riconoscimento di una struttura importante come è quella di Teramo, dall'altro in qualche misura ci fa anche preoccupare perché le distanze rispetto al Molise, al Molise interno con Teramo non sono ovviamente distanze brevissime. L'ictus che conseguenze potrebbe portare? L'ictus è una causa importante di disabilità permanente nell'adulto e nell'anziano, rispetto al quale è necessario attrezzarsi, attrezzarsi bene, lo ha fatto Teramo, io spero, sono convinto che lo potrà fare anche il Molise. Certamente il mese di agosto è difficile in qualsiasi regione, in qualsiasi sistema sanitario, ciò nonostante dobbiamo garantire un servizio efficiente e se l'Abruzzo può dare una mano al Molise, all'azienda sanitaria regionale del Molise è una cosa che si fa con grande piacere, ripeto, forse qualche perplessità sulle distanze potrebbe esserci, ma noi faremo di tutto, ricordiamo che l'ospedale di Teramo è dotato della pista di elio soccorso, è dotato di tutte le condizioni per poter essere raggiunto anche in estrema urgenza. Andiamo a Pescara adesso perché alcuni cittadini dei quartieri di San Donato, Rancitelli, Zanni, Fontanelle, Borgomarino e via Rigopiano, accompagnati dal Vice Presidente del Consiglio regionale ed esponente del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari, hanno manifestato pacificamente questa mattina nei pressi della sede del Consiglio regionale di Pescara per chiedere maggiore attenzione da parte delle istituzioni per i cittadini che vivono nella periferia del capoluogo. I residenti chiedono maggiore sicurezza e lavori urgenti alle case popolari fatiscenti. Sittin di protesta davanti alla sede della regione a Pescara da parte dei cittadini delle periferie. Le case sono devastate letteralmente, possiamo dire alloggi popolari di elinizia residenziale pubblica dove ci sono infiltrazioni diffuse d'acqua, ci sono disabili, persone con patologie respiratorie che non possono più stare all'interno di un'abitazione a maggior ragione. A seguito della grandinata la situazione è peggiorata novetevolmente, quindi abbiamo tetti aperti dove entra acqua, cittadini che non ce la fanno più a vivere in una situazione di incuria diffusa, non solo, anche all'esterno delle abitazioni ci sono ratti, topi, c'è una sporcizia diffusa. Gli abitanti di Fontanelle, Rancitelli, Zanni, Borgomarino, Via Rigopiano e Sandonato si sentono abbandonati. Il nuovo sindaco aveva promesso che controllava, vedeva da noi dalle periferie, invece abbiamo sentito che vuole ripristinare Corso Vittorio Emanuele, vuole rifare Piazza Salotto e di noi se ne frecaldamente. Vivono in pessime condizioni, in abitazioni fatiscenti e pericolanti, situazione aggravata dalla violenta grandinata del mese scorso. Ci sono le case che sono state messe in sicurezza, pertanto abbiamo buche in tutti i palazzi, quando piove entra l'acqua dentro, abbiamo tutte le case piene di muffa, poi abbiamo i balconi pericolanti, dall'ultimo terremoto sono tutti segnati i balconi e nessuno viene. Lo Stato non se ne frega niente, il sindaco, quello che era entrato adesso, ha detto che già appoggiato i provvedimenti appena è entrato, fino adesso non abbiamo visto niente, cioè tutto tace. Ci hanno abbandonati, denunciano i cittadini, nessuno, né di Ater, né del comune, è venuto a verificare i danni. A me mi dispiace perché noi paghiamo, però non siamo ascoltati. Mio figlio è dal 52, ha due bambini, uno di otto anni, uno di quattro anni, ogni anno si ha mal di bronchite polmonite, allora è pervuto dalle abbataglie, si è legata la casa, e più dalle presse usciva l'acqua. Chi vive nelle periferie si sente escluso dalla comunità, cittadini di Serie B nascosti in veri e propri ghetti e non basterà di certo il presidio fisso dell'esercito, chiesto a gran voce dei Cinque Stelle, a risolvere i problemi ben più profondi in seno alla nostra società. A noi ci interessa che ci aggiustino le case. L'assessore regionale Campitelli commenta l'azione del governo che ha impugnato la nuova legge sui trabocchi. Abbiamo soltanto messo un po' di ordine, senza stravolgere assolutamente nulla, abbiamo messo ordine a una legge che purtroppo negli anni non era ben chiara e allora quando c'è un po' di confusione, c'è chi se ne approfitta e chi forse un po' meno. Però in ogni caso era una legge per innanzitutto dare una risposta al nostro territorio e per dire che la regione è presente, noi ci siamo e poi l'accordo era che comunque a fine stagione magari si poteva valutare una legge regionale, una legge quadro sui trabocchi ad ampio respiro. Noi siamo convinti che la legge è stata ben fatta, rispetta i requisiti, rispetta la Costituzione, quindi poi valuteremo anche tutte le attività che noi siamo pronti ad intraprendere per difendere questa realtà. L'ultima l'opposizione dice una sola legge in sei mesi per altro bocciata, cosa risponde? Ma almeno voglio dire noi l'abbiamo fatta, loro in cinque anni no, quindi che cosa devo rispondere? Parlano i fatti, dovevano farlo loro questa legge e non l'hanno fatta. Avevamo argomento, l'ex Presidente del Senato e magistrato antimafia Pietro Grasso ha partecipato alla settimana marsicana per presentare il suo libro Storie di sangue, amici e fantasmi. La settimana marsicana propone un grande appuntamento con la lotta alla mafia. Pietro Grasso, ex Presidente del Senato, ha presentato ad Avezzano il suo libro Storie di sangue, amici e fantasmi, una storia di mafia ma anche una visione più intima di Falcone e Borsellino. Il libro viene proprio da questa esigenza di partecipare a questi sentimenti, queste emozioni, questi rapporti, non solo con Falcone e Borsellino perché contiene anche dei ritratti, dei medaglioni di tanti altri magistrati, colleghi, amici, forze di polizia, giornalisti, gente con cui ho avuto occasione di lavorare. Quando la necessità di scrivere questo libro? Quando mi sono reso conto che i giovani non conoscevano tante vicende che erano iniziate tanti anni fa, per esempio nel 92, questo libro è dedicato ai giovani nati dopo il 92 proprio perché bisogna lasciare memoria. Quelli che erano i valori che hanno spinto all'attività di magistrato sono rimasti assolutamente identici e che ora vengono praticati anche se in una funzione che ho fatto prima come Presidente del Senato da un punto di vista istituzionale ma adesso anche come politico perché io sostengo che anche la politica deve riconoscere e praticare questi valori. Ieri sopra il luogo del Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsiglio a San Giovanni in Venere dove da tempo i padri passionisti e il Comune di Fossacesia chiedono interventi sui problemi di infiltrazione d'acqua e crepe dell'abbazia. Servirebbero 4 milioni di euro per sistemare l'intera area. Splendida abbazia, allarme inascoltato, San Giovanni in Venere danni e accusa i segni del tempo con interventi mai risolutivi, diffuse macchie di umidità causate dall'infiltrazione di acqua piovana, caduta di calcinacci sul prato antistante e il portale della luna, la necessità di un urgente intervento per opere di isolamento del tetto, il consolidamento della struttura che in alcune parti manifesta crepe cedimenti strutturali. Problemi datati ed evidenziati ancora una volta nel corso di un sopralluogo effettuato dall'architetto Pezzi della Soprintendenza archeologica Belle Arti e Pasaggio d'Abruzzo, allarme rosso dunque in attesa di interventi urgenti improrogabili. San Giovanni in Venere è un monumento importante italiano, tra l'altro di proprietà del governo italiano e del Ministero degli Interni. Gli ho rappresentato innanzitutto il collegamento tra il centro di Fossacesia e la Bazzia, i marciapiedi che tra l'altro collegano anche chi viene e parcheggia a Fossacesia di Lanciano e dell'interno. Ho apprezzato la sua disponibilità a verificare le condizioni, il Presidente ha ovviamente sottolineato che ci troviamo in una zona importante sotto l'aspetto turistico, ambientale, storico e architettonico dell'Abruzzo. Poi gli abbiamo fatto vedere i problemi che ci sono all'interno dell'Abbazia, delle infiltrazioni, tra l'altro queste infiltrazioni hanno aumentato nella parte del portale della Luna la loro presenza per via della grandinata del 10 luglio. Speriamo bene, speriamo di poter dare ai cittadini quelli che tutti i cittadini si aspettano su San Giovanni in Venera. Presidente, è un patrimonio sicuramente dal valore inestimabile, però 4 milioni sono tanti? Sì, sono tanti, è onesto dirlo, quindi non faccio facili promesse, però l'impegno ce lo metteremo tutto perché effettivamente è un intervento che merita la massima attenzione e la massima disponibilità, quindi sarà faticoso rispondere in maniera completa a questa richiesta, ma devo riconoscere che non si tratta di una richiesta campata per aria, si tratta effettivamente di un monumento di un grandissimo valore, di un collegamento che svolgerebbe una funzione importante e peraltro eliminerebbe anche una condizione di pericolo che oggi sta provocando anche danni all'erario per i risarcimenti alle persone che si fanno male lungo questo percorso accidentato. Carabinieri e Università di Teramo stanno collaborando per salvare alcune razze equine pregiate. In atto un progetto di assistenza al parto a Torre di Feudozzo sui monti tra Abruzzo e Molise. Alfredo Primante. Salvare due razze equine di grande pregio, il cavallo persano e quello salernitano, un tempo allevati per le esigenze della cavalleria militare. È stato lo scopo della collaborazione tra l'Università degli Studi di Teramo e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri nell'ambito di un accordo quadro che ha dato vita ad una serie di attività di collaborazione nei settori delle scienze forensi e veterinarie, delle bioscienze, biotecnologie, scienze degli alimenti, della progettazione europea e degli studi internazionali. L'Università non può e non deve fare solo didattica e formazione, solo ricerca di base applicata, ma deve offrire servizio nei territori, sia nei territori in cui insisti che sia in territori nazionali e internazionali. Senza una facoltà di veterinari, soprattutto senza la facoltà di Teramo, per la professionalità, per l'espertise, per il know-how che loro hanno, non avremmo potuto fare forse la metà delle cose che facciamo. In primis faccio l'esempio più eclatante che quello della fecondazione assistita. L'estità di Teramo, con le esigenze operative delle parti dell'Arma dei Carabinieri, penso che sia uno strumento, una modalità operativa vincente, perché solo così si riesce a restare al passo con i tempi e dal punto di vista operativo. Le attività di assistenza e monitoraggio della riproduzione delle razze equine si sono svolte presso la torre di Feudozzo, tra Abruzzo e Molise, nei pressi del comune di San Pietro Avellana. Tutta la parte relativa alla riproduzione medicalmente assistita è fatta dal nostro servizio di riproduzione dei grandi animali della Facoltà di Medicina Veterinaria, che prevede il monitoraggio di quello che è il ciclo estrale, l'inseminazione strumentale, le ecografie sia di gravidanza precoce, che è il monitoraggio della gravidanza nel percorso della sua normale patologica gestazione. Ma il valore aggiunto è che queste attività sono svolte in compresenza con i nostri studenti. Nell'ottica della Convenzione è stata anche inserita una lezione tecnico-pratica di handling del cavallo, di approccio al cavallo presso il IV Reggimento Carabinieri a Cavallo, attraverso il supporto degli ufficiali veterinari e dei sottufficiali e carabinieri cavalieri. In pronta green all'undicesimo festival del peperone dolce di Altino, sette contrade si contenderanno il palio culinario il 23 e il 24 di agosto. Non solo cibo di qualità ma anche particolare attenzione alla mobilità alternative e al rispetto dell'ambiente. Avrà un'impronta green, l'undicesima edizione del festival del peperone dolce di Altino e palio culinario delle contrade che si svolgerà ad Altino venerdì 23 e sabato 24 agosto e vedrà la collaborazione con la Camera di Commercio Chiti Pescara e Lega Ambiente Abruzzo. Sette le contrade in gara che si contenderanno l'ambita piletta. Uno stand dell'associazione di tutela sarà dedicato al menù gluten free. Quello che contraddistingue il palio è la bontà dei cibi, la qualità dei cibi e la qualità degli ingredienti e dei prodotti che si utilizzano. Non verrà utilizzato solamente il peperone ma verranno utilizzati anche altri prodotti della biodiversità locale di qualità eccelsa. Lega Ambiente avrà uno spazio dedicato alle famiglie e alla sensibilizzazione sulla raccolta differenziata durante la due giorni della manifestazione. Diventa un momento per portare all'attenzione la sfida che abbiamo sui grandi temi come i cambiamenti climatici che ci impongono di fatto un ragionamento nuovo sui modelli e sugli stili di vita ma anche sulle azioni diciamo più importanti che poi ci portano alla gestione di eventi come può essere anche un festival. Adesso apriamo la pagina dello sport, cominciamo come di consueto dalla Serie B e dalla Pescara perché con l'addio di Gaston Brugman passato al Parma qualche giorno fa Vincenzo Fiorillo sembra l'indiziato principale ad indossare la fascia di capitano. Per il portiere biancazzurro il Pescara sta già assimilando i dettami di Luciano Zauri e questo organico assomiglia molto a quello vincente che c'entrò la promozione in Serie A qualche stagione fa. Lo ascoltiamo. Vincenzo Fiorillo siamo ormai a una decina di giorni dal debutto ufficiale e che Pescara sta nascendo per quella che è la tua esperienza? Tu che sei ormai insomma un senatore, hai visto altri gruppi, stai vedendo nascere questo gruppo? Ma come dicevo prima questo secondo me è un Pescara che per qualità tecniche si avvicina parecchio alla squadra che c'entrò la promozione però sto parlando di qualità tecniche per fare qualcosa di importante. Ci vuole tantissimo lavoro alle spalle e tantissime altre componenti che vanno al di là delle qualità tecniche. Quello che posso dire è che stiamo da ormai un mesetto lavorando veramente bene, c'è grande disponibilità e c'è la voglia di provare a costruire un gruppo forte e vincente. Con Zauri come va? Stiamo lavorando bene, in questo periodo ora, in questi giorni che sono già trascorsi abbiamo iniziato a sposare qualche principio, poco alla volta. Cercheremo di divertirci, cercare di divertire un po' le persone che ci seguiranno ma soprattutto di cercare di vincere le più partite possibili attraverso prestazioni importanti, frutto del lavoro provato durante le settimane. Con te spesso parliamo di questa caccia al record come portiere che ha maggior numero di presenze in biancazzurro, però ora si aggiunge un altro elemento, potrebbe arrivare la fascia di capitano dopo l'addio di Brugman. Ci pensi a questa ipotesi? Ne avete già parlato? No, non ne abbiamo parlato. È normale che se dovesse essere così sarei felicissimo. Sarei felicissimo perché credo di aver dato in questi anni, non tanto in campo ma anche fuori nei comportamenti dei segnali importanti all'interno dei gruppi nei vari anni. Quindi sarei orgoglioso, sarei onorato ma se non fosse così non cambierebbe di una virgola il mio modo di essere. È normale che avere la fascia è una responsabilità grande ma dovranno essere poi i miei compagni a essere più che altro contenti se io la dovessi portare. Giocatori vanno e vengono nel calcio però Gaston Brugman non è un giocatore qualsiasi, era il capitano di questa squadra, un giocatore leader tecnico possiamo dire. Che messaggio vuoi lanciare? Anche per ricordare questo ragazzo che ha dato tanto alla maglia biancazzurra. Guarda, onestamente da quando sono qua, Gaston è stato uno di quei giocatori, se non quello che più attirava gli occhi per le qualità che aveva. Era un piacere giocarci insieme, dico la verità. Sono contento per lui perché se è questo quello che voleva ha la possibilità finalmente di misurarsi con una massima serie. Io gli auguro il meglio, il mio sogno rimane quello di lo stesso suo, però magari provarlo a fare con questa maglia. Scendiamo adesso in serie C perché il Teramo piazza un grande colpo di mercato portando in bianco rosso Domenico Mungo. Il centrocampista arriva dal Cosenza con un contratto triennale e ritrova una regione, l'Abruzzo, che imparò a conoscerlo qualche stagione fa con la maglia del Chieti. Un lungo inseguimento prima della fumata bianca arrivata ieri sera dopo l'amichevole con il Pucetta. Domenico Mungo è un nuovo giocatore del Teramo ad annunciarlo attraverso la propria pagina social direttamente il presidente Franco Iacchini. Un colpo non a sorpresa per quanto riguarda il nome, che nelle settimane precedenti era stato vicino al diavolo, quanto per la tempistica, perché la dirigenza sembrava orientata ormai su Costa Ferreira o su possibili alternative e invece nel frattempo lavorava a fari spenti ancora sul centrocampista ormai ex Cosenza. Con Mungo il reparto nevralgico di Tedino, che lo aveva espressamente richiesto, innalza notevolmente il tasso tecnico. La sensazione è che con un LASIC che lunedì fermerà un contratto bienale col diavolo, Mungo andrebbe a prendersi la zolla a ridosso dei due attaccanti. 26 anni, 1,74 m e un talento scoperto e portato in Abruzzo nella stagione 2012-2013 da Alessandro Battisti. Mungo era reduce da una stagione in eccellenza a Piacenza, l'allora responsabile del settore giovanile del Parma, che ne deteneva il cartellino Francesco Palmieri, lo segnalò proprio a Battisti, all'epoca direttore sportivo del Chieti, che in Emilia si trovava sì, ma per le trattative che riguardavano l'attaccante Riccardo Capogna e il difensore Abel Gigli. Difficile fargli credere che quel ragazzino di 19 anni poi sarebbe diventato un giocatore centrale per tutte le squadre che lo avrebbero avuto. Il Chieti in primis, poi Perugia, Viareggio, Pistoia fino alla Serie B. Al Cosenza di Piero Braglia, che però dopo le 28 presenze dello scorso campionato non l'ha più reputato essenziale al progetto Silano. Ecco perché nonostante il rinnovo di contratto fino al 2020, l'addio in estate. Dopo il lungo tiro e molla il Teramo dunque al suo nuovo numero 10. Ora sarà caccia da un difensore centrale mancino? Con il sospiro di sollievo per Soprano, le cui condizioni non dovrebbero destare particolari preoccupazioni. Poi un attaccante con Sparacello che è sulla lista dei partenti come Barbuti. Tutto però a partire dalla prossima settimana. E a proposito di Teramo, ieri terza amichevole precampionato, 5 gol al Pucetta, formazione di promozione. Vediamo. La terza uscita stagionale del Teramo restituisce la sensazione che l'amichevole di mercoledì con il capistrello e i carichi di lavoro di Celano siano ancora tutti da assorbire. La squadra di Bruno Tedino batte un Correaceo Pucetta, ma lo fa, tra le difficoltà inattese di una gara nella quale l'avversario gioca al massimo delle proprie potenzialità. È un terreno di gioco che già dopo pochi minuti tradisce il diavolo. Dopo il vantaggio lampo di Piacentini di testa al sesto si fa male il Soprano ed è una tegola per un reparto che già doveva fare a meno di speranza. Il ritmo non è sostenuto, più di uno scroscio di pioggia torrenziale si abbatte sul Barbati e nonostante la buona volontà i biancorossi provano ad imbastire trame di gioco che spesso però non trovano la stoccata finale. Ci sta dopo 48 ore dall'ultima uscita. Così capita che il primo tempo termini col Teramo in vantaggio solo di un gol e che nella ripresa, addirittura dopo aver fatto qualche sostituzione, il diavolo subisca la prima rete della nuova stagione. Tomei non è perfetto nel disimpegno, Mercogliano fa il resto a porta sguarnita. Il diavolo prova subito a tornare in vantaggio e ci va vicino in più di una circostanza, ma serve la coppia tra virgolette di scorta per mettere la freccia. Berligea ribadisce alle spalle di Dell'Unto il servizio col contagiri di Persia, due giri di lancette e sempre l'ex Palermo sfrutta un controllo approssimativo di Mercogliano in area di rigore per portare a tre le reti dei suoi. Poccher calato a stretto giro da Pinza Uti, Slalom in area di rigore. Berligea lo rifinisce, l'ex Montedera scarica una stoccata precisa alle spalle del portiere. Punteggio corroborato nel finale da Minelli per un 5-1, Chetetino prende e conserva in attesa che il mercato gli porti quello che ancora gli manca. Prossimo appuntamento giovedì prossimo contro il Penne. È la mia occasione per rilanciarmi in questa piazza dove c'è entusiasmo e adesso mi sono integrato subito bene col gruppo, stiamo lavorando bene, anche oggi nei test abbiamo dimostrato, quindi c'è da continuare di questo passo. Lo farai in una posizione strategica nel 4-3-1 di Tedino, insomma tra le linee la posizione un po' ti si addice di più? Sì, è il ruolo che mi piace di più, svariare tra le linee, farmi pescare dai miei compagni per poi sviluppare il gioco in verticale in avanti. Stiamo lavorando i nuovi concetti del mister, quindi bene. Ti abbiamo visto anche, spesso e volentieri, andare in gol che non fa mai male. Certo, quella è una cosa in più che fa piacere, è un frutto del lavoro degli allenamenti. Come ti trovi con gli attaccanti? Oggi ti abbiamo visto prima con la coppia tra virgolette titolare, poi con quella tra virgolette di riserva. No, non ci sono titolari e riserve, adesso ancora presto per parlare di questo. Mi trovo bene con tutti, stiamo girando anche negli allenamenti, quindi un po' con uno, un po' con l'altro davanti. Non ci sono particolari preferenze, la squadra, come ho detto, lavora bene, quindi l'importante è continuare così. Un brivido nel primo tempo, ti abbiamo visto per qualche istante a terra, hai avuto paura di esserti fatto male. No, è solo un contrasto di gioco che capita, meglio così che non sia successo niente. E questo era anche il nostro ultimo servizio, vi ricordo che i contributi sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it. Prossimo aggiornamento alle ore 19, nel frattempo grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.